Ciao, con il caso studio di oggi vi voglio parlare di etica, etica che non stiamo parlando di quello che è il lavorare eticamente, ma etica è una realtà, esattamente una cooperativa sociale, un onlus senza scopo di lucro, della Sicilia, esattamente di Monreale e con loro abbiamo sviluppato un progetto che è esattamente Aromatica, Aromatica è esattamente quel prodotto qua che vedete ed è una realtà che prende le erbe aromatiche e le fa essiccare a freddo, l'essicatura a freddo non è altro che una procedura che Etica adotta per andare a mantenere le proprietà organolettiche del prodotto e che possa mantenere i profumi, gli aromi di tutte queste erbe aromatiche essiccate a freddo e noi le abbiamo posizionate in maniera molto chiara, come recita il payoff, le prime erbe aromatiche essiccate a freddo. Abbiamo creato il naming, abbiamo creato il logo, abbiamo creato un package, una confezione che con un messaggio non verbale fa assolutamente capire la zona geografica d'appartenenza, la Sicilia e qua abbiamo appunto sviluppato cinque referenze sviluppate tutte a livello grafico con una differenziazione cromatica e con la stessa coordinazione d'immagine. La cosa molto divertente è che comunque una realtà a livello di start up anche artigianale non a livello industriale e al di là appunto della primizia del prodotto all'interno deve anche pensare e sottostare delle regole di macchinazione della confezione che noi abbiamo sviluppato appunto con questo sacchetto interno trasparente che fa vedere il prodotto sia nel fianco che nel fronte della finestra dove appunto troviamo la Sicilia ma altresì questa fascetta chiusa con questa borchia in maniera che si possa macchinare a livello produttivo internamente senza non avere dei costi troppo elevati. Io con il caso studio di oggi vi saluto e vi ricordo sempre che non esiste un prodotto di qualità senza che il package stesso trasmetta la qualità del prodotto. Grazie. Grazie.